Andrew, dobbiamo ripartire forzatamente da quello che è successo a Crotone. Una brutta prestazione, siete riusciti a capire nello spogliatoio cosa non ha funzionato all'uscita? Siamo riusciti a capire sì, perché ieri abbiamo avuto una discussione con il mister, come solito, la ripresa dell'undamento. Certo che eravamo un po' dispiaciuti per la sconfitta, però ora ripartiamo da qui. Abbiamo due settimane per lavorare bene e correttamente, quindi domenica prossima ci aspetta la partita in casa con il Cosenzo, una partita molto importante che, dal mio punto di vista, dobbiamo vincere, così sposta alla classifica. Per la prima volta siete partiti con il modulo 3-5-2. Tu, da difensore, come ti sei trovato con questo schieramento tattico? Io 3-5-2, giocando a tre dietro, nel passato l'avevo già fatto a Benevento, quindi grande difficoltà che ho trovato perché abbiamo avuto tutta la settimana per lavorarlo. Poi è certo che giocare a un modulo 4-3-1-2, 3-5-2, magari è diverso, però comunque in allenamento ci lavori. In partita è una che è cambiata tantissimo. Loro sono stati bravissimi, ci hanno messo in mezzo giocando a tanto pallone. Noi abbiamo provato a dare il massimo, purtroppo è andata male, però abbiamo questi gestioni per lavorare bene. È un periodo in cui non arrivano tanti risultati. Nelle ultime sette partite l'Ascoli ha raccolto solamente cinque punti. Come ti spieghi questo calo di rendimento dopo un ottimo inizio di campionato? Un calo, secondo me, è una parola grossa perché noi ogni volta che andiamo in campo diamo il massimo, non è che andiamo in campo senza voglia. Andiamo in campo con la voglia giusta e vogliamo sempre vincere tutte le partite che giochiamo. Purtroppo questa è una situazione brutta in cui ci dobbiamo rimettere subito. Queste settimane siamo tutti qui, tutti in famiglia per lavorare tantissimo. Siamo gruppo, ci vogliamo tutti bene. Domenica andremo in campo per vincere la partita e niente altro. Sei soddisfatto a livello personale del tuo rendimento? Ora ti attenderà una giornata di squalifica dopo il quinto cartellino giallo in campionato. Nella mia prestazione personale sono contento perché sto tornando al meglio della mia forma. Ora c'è la vostra settimana di recupero, per me è più un bene che un male perché comunque lavorerò tanto per tornare al massimo la partita prossima. È certo che mi dispiace non giocare quella col Cosenza, però andrò un altro al posto mio e sono sicuro che farò benissimo. Hai parlato del match col Cosenza, mancano ancora dieci giorni ma servirà massima concentrazione perché si giocherà in casa, l'Ascoli ha bisogno di punti e il Cosenza nonostante sia in bassa classifica è una squadra da prendere con le pinze che nelle ultime otto gare ne ha perse solamente una. Quindi è una squadra molto molto temibile. Ma dal mio punto di vista non serve guardare la squadra in cui giocheremo, serve lavorare su noi stessi, lavorare queste due settimane e domenica andare in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia di vincere la partita. A noi l'attea squadra non ci interessa.